Fatigue tra i sintomi persistenti del dopo Covid, ma anche febbre e manifestazioni cardiologiche come tachicardia, oltre che malattie dermatologiche. Una persona su tre ne soffre. Uno studio dei ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli ha evidenziato che la stanchezza cronica della sindrome post-Covid è associata a un'alterazione nel metabolismo dell'arginina, aminoacido prodotto naturalmente dal nostro organismo. Tra due settimane, la pubblicazione di una ricerca condotta dallo staff del Covid Hospital del Santo Spirito di Pescara su un campione di 350 pazienti. Noi stiamo individuando in questi pazienti un meccanismo di immunoattivazione legato ai percorsi dell'allergia che in realtà influenza proprio tutta la risposta dell'ospite alla vaccinazione o all'infezione da SARS-CoV-2. I sintomi possono durare anche diverse settimane ma c'è una fascia di età più sensibile rispetto alle altre? Noi in realtà stiamo trovando che le persone che si lagnano di questa problematica spessissimo hanno un'età compresa fra i 40 e i 60 anni quindi è un problema che riguarda molto la popolazione attiva ma ci sono persone interessate già dopo i 25-30 anni fino all'età più avanzate senza preferenza di sesso. Quali sono i rimedi per ridurre questa sintomatologia che comunque nel quotidiano può anche essere invalidante sotto certi aspetti? I pazienti che hanno come meccanismo implicabile nella situazione di long Covid lo stato di immunoallergizzazione di cui parlavo prima per fortuna possono giovarsi di un vecchio presidio farmacologico, gli antistaminici che sembrano poter essere in condizioni di modulare questa situazione di eccessiva attivazione senza effetti collaterali particolari. Ricerche nazionali hanno focalizzato l'attenzione sul metabolismo dell'arginina? Sì, sui metabolismo energetici in generale perché l'altra porzione importante di pazienti che viene alla nostra attenzione ha una ridotta produzione energetica, l'opposto dell'immunoattivazione ha avuto un danno mitocondriale, ha un ridotto metabolismo del glucosio e quindi l'arginina o tante altre sostanze che possono essere utilizzate per rinforzare la funzione mitocondriale sono utili.